Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti. Bentornati su Giove H. Dispo. Io sono Giovispo e questa è la serie scontro tra titani, stagione numero 3, episodio numero 4. Nello scorso episodio, anzi, anzi. Prima di iniziare, mi scuso se sentirete un ronzio di sottofondo, ma è il mio ventilatore che fa un po' caldino, direi. Poi, volevo dirvi di passare dal canale demografico, troverete il link qui sotto in descrizione oppure potete cliccare direttamente nella notazione in alto a destra e andrete direttamente sul suo canale. Un'altra cosa, sto facendo pochi video di FUT perché non so, forse mi è passato un po' l'ispirazione per FUT14 forse tornerà con FUT15, però le serie scontro tra titani, qualche squad builder, i pack opening, quelli ci saranno. Dunque, avete scelto lo scorso episodio tra Mena T.A. Tots oppure Chiellini Tots? La vostra scelta è stata, la vedrete tra pochissimo, allora, la nazionalità, non si dice, campionato, vabbè, serie A. La vostra scelta è stata Chiellini Tots. Secondo me è un ottimo acquisto, 93 di difesa e 90 di test con 81 di velocità, un walk rates medio alto, quindi perfetto per un difensor centrale. E dunque, andiamo a cercare l'avversario casuale. E dunque, questa è la squadra, sembra la squadra iniziale, non è particolarmente forte, quindi credo, spero e voglio fare più di tre gol o quattro con Di Natale Tots. Di Natale, Di Natale, Giacco positivo, Di Natale, mala troia, come hai fatto a sbagliare, amico mio, amico Di Natale. Ma c'è stata una palla bellissima, sulla Di Natale il numero, ancora Di Natale il tiro, vai Sani, segna Cani. Cani segna sulla respinta del tiro di Di Natale, vabbè, dai. Nidal, tutti segnano tranne Di Natale, male Di Natale in questa partita, ho fatto già due o tre tiri, ma niente. Vai Di Natale, sei tutto solo. Vai Di Natale, segna Di Natale, bravissimo, è un gol, è fatto, un gol è fatto. Non quittare, fammi fare quattro gole, non quittare, dai, dai, cazzo. No, 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 non quittare, dai, per favore. C'è, mo quitta. No, non quittare, non quittare, no. Ma l'affanculo, vai. Oh, che palle tonde che si hanno qui, che palle tonde, ma che palle. Beh, almeno un gol è fatto. Quindi, si può scegliere un attaccante, un attaccante, ma un giocatore oro, raro, oro, normale. Buono, buono. Dunque, faccio una ricerca e vi dico tra poco. Allora, potrete scegliere tra Manuel Neuer oppure Adler, entrambi portieri, entrambi tedeschi, entrambi della Bundesliga. Dunque, commentate qui sotto con la vostra scelta, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, lasciate un pollice all'insù per questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao e buon alla prossima.